Dopo due sconfitte su altrettante uscite di campionato, la Carpegna prosciutto basket Pesaro non si fascia la testa sullo zero in classifica. Che l'avvio di Torneo non fosse una passeggiata era cosa nota al pari dei valori morali e tecnici di una VL che inducono il brand ambassador bianco-rosso Walter Magnifico a guardare avanti con fiducia. Analizziamo le due partite parlando della forza del nostro avversario che è nettamente superiore a noi per fisicità e talento tecnico. Comunque nonostante questo a Brescia ci siamo andati vicini, a Venezia naturalmente abbiamo giocato con un po' di difficoltà però l'inizio del campionato non è assolutamente facile perché nemmeno a Brindisi e nemmeno fra tre partite a Milano ho scaffato in casa però i ragazzi lavorano, lo staff è attento a cercare di migliorare le cose e vediamo come andrà da sabato prossimo a Brindisi. Momento delicato per Pesaro, idem per Brindisi che sabato alle 20.15 arriva al pala Pentassuglia dopo due KO con Reggio Emilia e Tortona. Avranno le motivazioni pari un po' come le nostre, naturalmente giocando in casa hanno un leggero vantaggio rispetto a noi però dobbiamo concentrarci su di noi, sul recuperare bene tutti i ragazzi perché anche Scott che ha stretto i denti ha voluto giocare domenica scorsa con Venezia ma ha preso una leggera distorsione anche se da oggi dovrebbe ricominciare ad allenarsi però sono sempre questi piccoli intoppi che ti impediscono di poter lavorare con serenità e con continuità durante la settimana però c'è la massima attenzione e collaborazione di tutti quindi andiamo a Brindisi con la fiducia che ci possa portare a fare una disputa, una partita di carattere concreta.